Per entrare in ospedale indossiamo la mascherina. Le strutture sanitarie infatti come quelle sociosanitarie e socioassistenziali insieme alle strutture riabilitative e residenziali per anziani sono gli unici luoghi in cui l'obbligo dei dispositivi di protezione individuale è rimasto in vigore per lavoratori, utenti e visitatori almeno fino al 31 ottobre. Dal 30 settembre la caduta delle restrizioni anche sui mezzi di trasporto ha allargato le maglie di una ritrovata libertà pre-pandemica che però ora deve necessariamente tornare a fare i conti con un aumento importante dei contagi da covid. Per il dottor Paolo Fazzi direttore dell'unità complessa operativa di microbiologia e virologia dell'ospedale Santo Spirito di Pescara le raccomandazioni e il buon senso non sono sufficienti e forse sarebbe bene fare un passo indietro e riconsiderare l'obbligo della mascherina in tutti i luoghi chiusi per evitare un peggioramento della situazione con la stagione fredda alle porte. Io ovviamente parlo da tecnico secondo me è stato un errore perché ad esempio sui treni è stato giustamente mantenuto l'obbligo durante l'estate e adesso però che con il freddo e con la riapertura delle scuole oggettivamente vediamo che i casi stanno in aumento secondo me è un provvedimento che dovrebbe essere rivisitato per contenere il numero dei contagi. Secondo lei i luoghi più a rischio, quelli in cui la mascherina andrebbe reintrodotta, quali sono? Ma sono sicuramente i mezzi pubblici. Personalmente ritengo che pure nella scuola bisognerebbe mantenere la mascherina. Oggettivamente osserviamo un rialzo dei casi dall'inizio dell'autunno abbastanza correlato alla riapertura della scuola. Quindi sicuramente negli ambiti chiusi. Questo è un virus che si trasmette con l'aerosol. Se io prendo il treno a Milano e non ho la mascherina, in un vagone tossisco, parlo, starnutisco e scendo a Bologna. Dopodiché ci sta un'altra persona che sale ad Ancona, magari nel vagone vuoto. Quella persona può infettarsi perché c'è comunque un aerosol carico di particelle virali. Se hai la mascherina non a zeri al mille per mille, però stai oggettivamente molto più sicuro perché parliamo di protezioni oltre il 96-97-98% se mantieni sempre la mascherina. Io spero che venga rivisto questo provvedimento per garantire la salute dei singoli, ma la salute soprattutto della collettività. Vorrei anche sollecitare la gente ad andarsi a vaccinare. Due sono le armi, il vaccino e il mantenimento della mascherina, soprattutto per tutelare oltre che se stessi il prossimo. Che autunno, che inverno ci aspetteranno? Nei mesi invernali sicuramente si avrà un peggioramento. Scenario peggiore, la gente non si vaccina, si toglie come si fa la mascherina in ogni dove, magari viene fuori una mutazione negativa per l'essere umano. Poi con il freddo potrebbero esserci veramente delle situazioni importanti. Lo scenario invece migliore è quello dove la gente si va a vaccinare, si continua a portare la mascherina anche con obbligo, magari viene fuori una variante ancora più benigna. Quindi ci sono delle variabili che possono incidere sui prossimi mesi.